Comincio con una domanda all'assessore alle politiche giovanili. A partire dal pomeriggio Piazza Duomo oggi si è trasformata in un grande ristorante dove gli chef cucinano piatti della tradizione locale, dove vengono proposte degustazioni di prodotti del territorio novarese, quali vino, riso e gorgonzola. Qual è l'obiettivo di questa Notte Verde dedicata ai prodotti locali? Grazie a tutti, benvenuti a questa manifestazione, vedo che già la piazza è piena di gente, tutti i novaresi vengono anche da fuori regione. Il nome dice già tutto, Notte Verde è una notte dedicata all'agricoltura, alla natura, perché proprio in questo periodo sbocciano i prodotti del territorio. Noi volevamo valorizzare quello che è il nostro vanto, abbiamo qua persone autorevoli che si occupano tutti i giorni di valorizzare i prodotti di spicco del nostro territorio. Ho scoperto che a Novara si produce il 55% di gorgonzola, il riso è venuto in tutto il mondo, ce lo invidiano in tutto il mondo, il vino, e cercano sempre anche di copiarcelo. Allora sembra giusto che Novara, che vuole diventare la capitale del gorgonzola, del vino, del riso, dedichi una notte bianca ai nostri prodotti del territorio. Io penso che questa volta ci siamo veramente riusciti a cercare di trovare un filo conduttore, grazie anche al Ministero delle Politiche Agricole, che ha finanziato il tutto, perché il futuro deve essere prodotti di stagione, la filiera corta e sicurezza alimentare. Dobbiamo sapere cosa vogliamo mangiare, cosa stiamo mangiando, e grazie ai nostri chef vedremo anche come si riescono a sfruttare i nostri prodotti e fare un menù veramente speciale per questa notte verde. Grazie a tutti e buona continuazione. Marta, cosa ci prepari? Il piatto che preparo è la trota in carpione. Nel mio ristorante Altantris si fa un po' l'evoluzione della cucina, la ricerca sempre di forme nuove, sempre di stimoli diversi per poter presentare il cibo in maniera anche un po' alternativa. I prodotti sono sempre quelli del territorio, la trota che preparo sarà una trota in carpione nella versione Tantris, per cui alla fine mangiando un pezzettino di ciascuno degli elementi si avrà il gusto del carpione in bocca, però gli elementi sono stati scomposti e verranno ricomposti all'interno del piatto, così ve li faccio vedere. Volevo solo dirvi ancora una cosa, i prodotti che prepariamo questa sera, fatti in miniatura, li vendiamo nel primo stand illuminato sotto il patrocinio dell'Anfas, nel senso che tutti i soldi che verranno raccolti per la vendita di questi assaggi, abbiamo deciso di devolverli in beneficenza all'Anfas di Novara, rispettando appunto sempre la territorialità di quello che facciamo. Intanto io potrei cominciare a fare... Infanto tu cominci a preparare il tuo piatto, io faccio una conversazione con la presidente dell'Anfas di Novara, Silvia Colonna Miglio. L'Anfas è l'acronimo che oggi significa Associazione Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e Relazionale, giusto? Ci sono una storia e un presente, ce lo racconta? Certamente, è un acronimo che oggi non si riconosce più nelle iniziali della denominazione. L'Anfas nasce a Roma nel 1958 per iniziativa di una mamma un po' indignata per la situazione in cui versavano le persone disabili. Questo acronimo inizialmente significava Associazione Nazionale Famiglie Fanciulli e Adulti Subnormali. Raggruppava quindi le famiglie di ragazzi che erano emarginati dalla società, non frequentavano la scuola e sicuramente non sapevano cosa fosse l'inclusione sociale. Questa mamma coraggiosa e questo primo nucleo ha fatto veramente un'opera importante a livello politico e a livello informativo, per cui questo piccolo gruppo iniziale ha cominciato a diffondersi su tutto il territorio nazionale. Oggi Anfas può contare su 150 sezioni locali, anzi forse qualcuna di più. A Novara è nata nel 1969, proprio l'anno dello sbarco dell'uomo sulla luna. E in questi anni ha comunque acquistato importanza a livello locale perché è intervenuta fattivamente nelle politiche sociali locali, è intervenuta con un'opera di divulgazione, di integrazione per favorire quei processi che sicuramente portano oggi a un miglioramento nelle condizioni di vita dei ragazzi disabili. Ha mutato è vero la sua denominazione perché oggi si chiama famiglie di disabili intellettivi e relazionali e ha perso fortunatamente quella connotazione negativa che il termine subnormale aveva inizialmente. Oggi si parla di disabilità, non per nascondere un problema ma perché da questa disabilità può nascere sempre qualcosa di positivo. Oggi è presente sul territorio novarese con due importanti servizi e sono un centro di urno e un centro residenziale. Nel centro di urno che ospita i ragazzi in età post scolare vengono ospitati dieci ragazzi, sono ragazzi che frequentano, non sono assistiti, sono educati perché quello che sostiene l'ANFAS è un processo di formazione continua perché altrimenti le poche abilità acquisite, voi per le patologie che questi ragazzi hanno, se non vengono attivate, non vengono stimolate, si perdono. In queste attività quindi si fanno attività socioeducative e poi nell'attività invece nel centro residenziale vengono ospitati i ragazzi che non possono essere più assistiti dai familiari o perché non ci sono più o perché i familiari stessi hanno bisogno di essere assistiti a loro volta. Anche qui questo servizio non ha sicuramente la connotazione dell'istituto perché per i ragazzi la casa residenziale e l'orizzonte è una casa di abitazione. I ragazzi mantengono i rapporti con il tessuto sociale, svolgono attività di vario genere, frequentano sicuramente la società e sono ben inseriti a livello sia scolastico sia a livello sportivo e anche nel fare la spesa. Grazie. Resti che ho altre domande da farle ma intanto seguiamo cosa fa Marta. Marta come va la tua ricetta? Va bene, abbiamo tagliato a cubetti la trota, la passiamo in quest'acqua gasata con un po' di farina, la lasciamo cadere in un olio molto bollente. Intanto Piero sta dorando le carote, una leggera doratura. Qui sul tavolo abbiamo una gelatina fatta con una riduzione di aceto rosso e delle cipolle, sempre cipolle dolci rosse. Quindi uno scrigno con due parti, una dolce e una più acida. E una più acida, l'acidità dell'aceto veniva utilizzata anche come conservante, non c'erano i frigoriferi e l'aceto serviva a conservare. Adesso non siamo più in queste condizioni, conserviamo benissimo nei nostri frigoriferi, però questo piatto è un piatto nostro storico e ci piace continuare a riproporlo. Adesso frigo la trota in modo che rimanga bella doratina, le carote sono pronte. Io intanto vado avanti con la seconda domanda. Da quest'anno l'ANFAS gestisce un progetto che a me pare importante, che è un progetto orticulturale. Ci vuole dire due parole su questo progetto che mi sembra molto interessante? Il progetto è molto interessante e sono molto orgogliosa di questo, perché rientra tra le attività che sono state pensate al centro di urno per i nostri ragazzi, aperte non soltanto ai frequentatori del centro di urno, ma anche ad altri ragazzi che provengono da realtà esterne, sempre disabili. è stata un po' una scommessa, anche il nome di questa terapia è quel che viene, viene. Siamo partiti così, un po' a vedere...